Questa non è sicuramente un'edizione fortunata dal punto di vista meteorologico del concorso d'eleganza di Villa d'Este, ma le avverse condizioni meteo non hanno impedito al pubblico e ai collezionisti arrivati da tutto il mondo di esporre le loro vetture qui nel parco del Grand Hotel Villa d'Este, per quello che è considerato il concorso d'eleganza per auto d'epoca più prestigioso sicuramente al mondo assieme al concorso d'eleganza di Pebble Beach 50 le vetture esposte divise in 8 classi, classi che raccontano la nostra storia dell'auto dalla classe che raggruppa le vetture che hanno trionfato la 24 ore di Le Mana la classe che festeggia i 75 anni di Porsche e poi le classi dedicate alle velocissime lussosissime vetture anteguerra con le regine, le autoregine dell'epoca dei Maragia e ancora le più belle vetture del dopoguerra, le meravigliose GT che hanno raccontato proprio in quei decenni la storia dello stile italiano e dei grandi carrozzieri. E allora vediamo le vetture protagoniste da questa Ferrari 250 GTO del 1962 a questo testa rossa del 1959 Ferrari che si trovano tutte in collezioni americane così come si trova in America questa Mercedes che per noi è sicuramente la regina di questa classe dedicata alla circuito della Sartre perché guardatela questa Mercedes Benz 300 SL Coupé del 1952 proveniente sempre da una collezione americana è l'unica Mercedes Benz ad aver vinto la 24 ore di Le Mans degli anni d'oro. Era il 1952, Mercedes aveva da pochissimo presentato questa meravigliosa ali di gabbiano con questa soluzione del telaio tubolare in alluminio che la rendeva leggerissima e infatti pur non essendo sicuramente la vettura più veloce iscritta quell'anno risultò la vincitrice proprio per la sua straordinaria leggerezza abbinata a questo motore comunque potentissimo per quegli anni. Dicevamo una delle protagoniste di questo concorso d'eleganza di Villa d'Este che ha raccontato proprio quelle che sono le evoluzioni della nostra cultura automobilistica, tecnologia, innovazione e soprattutto tantissimo stile. Questa Lancia Florida Coupé Pininfarina del 1955 arriva dalla Lopresto Collection con questa vettura Pininfarina introduce tutte le novità del momento. Corradolo Presto, una macchina importantissima proprio per lo stile di quegli anni? Sì perché con questa macchina Pininfarina si è adeguata alle nuove tendenze che c'erano nel campo dell'architettura, del design e della moda. Gio Ponti progettava il suo grattacielo Pirelli con la linea Diamante, Rossani il grattacielo Lancia. Dior introduce la linea H nella sua linea, linea di moda, ma per dire che c'era tutto un movimento innovativo che dava vita a queste linee slanciate che questa macchina ha tirato fuori. Ecco vediamole queste linee di questa meravigliosa vettura che ha anche peraltro un colore elegantissimo. Sì questo è il classico blu lancia ma alleggerito con il bicolore che con le costolature posteriori slanciava la macchina. Ma sulla fiancata notiamo la linea del diedro, l'invenzione di Revelli per Pininfarina che con una semplice piega della lamiera dava la forma alla luce ed evitando tutti quegli orpelli sulle fiancate che con questa macchina da questa macchina in poi sono state abolite. La Ston Martin Coupé di B2 del 1950 si aggiudica qui al concorso d'eleganza di Villa d'Esta e il premio consegnato dall'Asi come miglior vettura conservata del periodo post war. Alberto Scuro perché avete assegnato questo premio? Questo premio è assegnato perché questa macchina rappresenta al meglio quello che è in questo caso lo spirito dell'Asi perché guardando questo veicolo mantiene tutta tutta la traccia di una storia importantissima che sta macchina a corso negli anni 50 52 52 facendo tantissime partecipazioni dei bellissimi risultati a Le Mans, a Mille Miglia, al Pirrelli per cui è una macchina che guardandola parla e ti racconto una storia. La Coppa d'Oro qui a Villa d'Este quest'anno è stata vinta da questa macchina la 250 GT Ferrari California Spider una delle Ferrari più belle più rare più eleganti al mondo macchina appartenuta alla scrittrice francese Françoise Sagan è restaurata qui per Villa d'Este oggi nel suo colore originale per la prima volta in 60 anni. Bella no?